Ti senti al sicuro con la mascherina che stai usando in questo momento? Può una qualsiasi di queste mascherine davvero aiutare contro i virus? Ti senti frustrato di dover comprare una mascherina ogni giorno o dal doverla lavare dopo ogni singolo utilizzo? Ciò di cui hai bisogno per tenerti protetto in ogni momento è una mascherina che sia antivirale, antibatterica e riutilizzabile. Quello che ti serve è la nuova mascherina Avevita Protect 2.0. La nuova mascherina riutilizzabile Avevita Protect 2.0 è stata sviluppata in Svizzera. Ciò che rende Avevita Protect 2.0 unica è che non appena il virus entra in contatto con la mascherina viene subito distrutto. Come? La mascherina Avevita Protect 2.0 contiene ioni caricati positivamente che vengono attratti dagli ioni del virus caricati negativamente. Al contatto rompono la membrana proteica protettiva del virus, distruggendolo. Indossare le normali mascherine può aiutare a prevenire l'esposizione diretta al virus, però la parte esterna della mascherina può contaminarsi e i virus possono essere trasmessi con il semplice contatto, nell'indossare, rimuovere e toccare la mascherina, da qui la necessità di cambiare spesso o lavare le mascherine. Con Avevita Protect 2.0 puoi essere sicuro che i virus vengono distrutti al contatto, quindi non serve cambiare o lavare la mascherina dopo ogni singolo utilizzo. Non portare i virus a casa, distruggeli al contatto. La mascherina Avevita Protect 2.0 ha quattro strati che sono progettati per proteggere te e quelli attorno a te da virus e batteri. Il primo strato protegge distruggendo il 99% di virus e batteri. Il secondo e il terzo strato filtrano le particelle nocive utilizzando un filtro PTFE in nanotecnologia. Mentre il quarto strato protegge le persone intorno a te distruggendo il 99% dei virus e dei batteri dell'aria che viene espirata. Questa mascherina è ultra sottile, pesa pochissimo, è confortevole e traspirante. Paragonando la mascherina Avevita Protect 2.0 ad altre mascherine reperibili sul mercato, Avevita Protect 2.0 è antivirale, antibatterica, filtra al 99% delle particelle nocive, è lavabile, riutilizzabile, eco-compatibile e può essere utilizzata fino a 20 settimane. La mascherina Avevita Protect 2.0 è comoda e ha un pratico sistema per regolare la taglia di adulti, bambini e teenager. Senza dubbio Avevita Protect 2.0 è la nostra migliore mascherina per tenerti al sicuro.